Miei cari amici, in questi giorni c'è una serie di eventi molto molto importanti. Questo è fondamentale. L'iniziativa di dar vita all'Hospice Nostra Signora del Carnassau impegna tutti i nostri collaboratori della FARO, la dottoressa Bei, l'infermiera specializzata Antonella, a fare un corso, tre giorni, il 3, il 4, il 5 ottobre, un corso di formazione che cos'è l'Hospice e quale deve essere la spinta di cuore e di mente al servizio dei malati terminali. Cari amici, vi aspetto tutti il 23 novembre a Cussagno, all'Hotel dei Tigli. Il nostro solito incontro semestrale è importantissimo, perché è una relazione diretta e precisa, non solo mia, ma di tutti gli esperti sull'Hospice, il nostro centro di cure palliative nato in Capoverde. Am se c'è, amici, am se c'è, ricordatevelo sempre. Grazie a tutti i nostri amici.